Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca, l'attività investigativa di Carabinieri e Guardia di Finanza ha sgominato l'attività di una banda operante nel Vastese dedita a spaccio ed estorsione, 20 le misure eseguite dai militari sin da questa mattina. Il servizio di Selenia Secondi. Un traffico di ingenti quantità di stupefacenti e correlate attività estorsive nel Vastese sono al centro dell'operazione Blue Marine, risultato di tre anni di indagini condotte dall'arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Chieti. Dalle prime ore di questa mattina 150 tra Carabinieri e Finanzieri dei Comandi Provinciali con la collaborazione di militari dei corpi speciali delle unità cinofile e con l'ausilio di elicotteri in multifunzione hanno dato esecuzione a 20 ordinanze di custodia cautelare. L'organizzazione criminale composta prevalentemente da albanesi operava nell'area di Vasto, San Salvo e nel nord della costa molisana. Si rifornivano di stupefacenti sulla piazza Calabrese attraverso le indrine di Vibo Valencia ma anche in Emilia Romagna, Puglia e Abruzzo. Lo stupefacente veniva distribuito da individui di nazionalità albanese ma anche italiana. L'associazione criminale gestiva poi numerose attività commerciali, formalmente lecite ma di fatto finanziate dagli introiti provento del traffico di stupefacenti, bar, negozi, concessionarie e sale gioche che consentivano il riciclaggio di denaro. Le investigazioni si sono concentrate sulle frequentazioni e le dinamiche che si svolgevano intorno al bar Blue Marine 3 di San Salvo, da cui il nome dell'operazione. Questo esercizio commerciale era la base operativa e sostanzialmente la cabina di regia del sodalizio criminale ed è per questo che oggi ne è stato disposto il sequestro preventivo. C'erano poi le estorsioni nei confronti dei proprietari di locali notturni della costa meridionale abruzzese e dell'Alto Molise. L'uso di armi e materiale esplodente per intimidire si configurano come metodi mafiosi, attentati incendiari e danneggiamenti messi a segno da fazioni che si contendevano l'esclusiva per la gestione del servizio di sicurezza nei locali notturni abruzzesi e molisani. No, se vai in ospedale muore, lo intubano. È stata questa la risposta del ginecologo di Taramo Roberto Petrella, la moglie di un paziente originario di Napoli e residente nel Casertano che seguiva prevalentemente per telefono e che due giorni dopo è morto. Per quel decesso Petrella è stato posto oggi agli arresti domiciliari per omicidio colposo al termine di indagini condotte dalla Digos di Catanzaro, coordinate dalla procura e nate da intercettazioni disposte nell'ambito di un'altra inchiesta. Il medico, dopo aver detto alla donna di evitare il ricovero, secondo la procura di Catanzaro, che si è avvalsa di un consulente tecnico, prescrisse, senza neanche visitare il paziente, affetto da gravi patologie pregresse, una terapia a base di vitamine, antibiotico e antidiabetico orale, ritenuta totalmente avulsa da qualsiasi pratica di scienza medica, che invece avrebbe imposto un immediato ricovero ed ha fatto ricorso anche alla micoterapia, un rimedio di origine tradizionale cinese che non trova fondamenti scientifici. A lui la coppia si era rivolta grazie alla sua attività di propaganda di cure alternative sui social, dove lo stesso Petrella ha più volte ribadito anche le sue teorie Novax. Oggi il via a Roma all'elezione del Presidente della Repubblica e dei 1.9 elettori, 24 sono abruzzesi, vediamo quali sono e come funzionano le votazioni. Giuseppe Dintino. Seduta comune delle Camere a Roma, 1.9 grandi elettori, dalle 15 di oggi al voto per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, tra loro 24 abruzzesi. A sceglierlo sono i parlamentari elettivi, i senatori a vita e tre delegati per ogni regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato. Per eleggere il Capo dello Stato è inizialmente necessaria la maggioranza qualificata, ovvero almeno due terzi degli elettori. Dalla quarta votazione in poi invece sarà sufficiente la maggioranza assoluta. 24 in totale, come detto, gli elettori abruzzesi. I tre delegati della nostra regione sono il Governatore Marco Marsilio di Fratelli d'Italia, la Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, e il Forzista e Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Dei 21 parlamentari abruzzesi, 7 sono i senatori e 21 i deputati. Per il PD ci sono la deputata Stefania Pezzopane e il senatore Luciano D'Alfonso. Per il Movimento 5 Stelle i deputati Daniele Delgrosso, Gianluca Vacca, Daniela Torto, Valentina Corneli e Carmela Grippa e i senatori Gianluca Castaldi, Gabriella Di Girolamo e Primo Di Nicola. Un abruzzese anche tra le schiere d'Italia Viva e il deputato Camillo D'Alessandro. Per la Lega invece ci sono i deputati Antonio Zennaro, Giuseppe Bellachioma e Luigi Deramo e il senatore Alberto Bagnai. Per Forza Italia i deputati Antonio Martino e Gianfranco Rotondi e il senatore Nazario Pagano. Mentre il senatore Gaetano Quagliarello fa riferimento a Idea Cambiamo di Toti nel Polo di Coraggio Italia insieme al deputato Fabio Berardini. Tra gli elettori 112 parlamentari del gruppo misto saranno loro probabilmente ad essere l'ago della bilancia. L'unico abruzzese del gruppo misto è il deputato ex 5 Stelle Andrea Colletti. Il mandato del Presidente della Repubblica durerà per i prossimi sette anni. Diversi nomi circolati in questi giorni rispetto a chi potrebbe salire al Quirinale. I papabili vanno dal Premier Mario Draghi al capo dello Stato uscente Sergio Mattarella. Se questo venisse rieletto sarebbe il secondo caso di riconferma nella storia della Repubblica, dopo quello di Giorgio Napolitano. Tra i nominati anche l'intramontabile Pierferdinando Casini e l'avezzanese Gianni Letta, zio del segretario del PD Enrico e fedelissimo di Berlusconi. Potrebbe essere il primo abruzzese in assoluto a diventare il capo dello Stato, seppur alla soglia degli 87 anni d'età. Questa però potrebbe essere la prima volta anche per una donna al Quirinale. Tra quelle proposte la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la diplomatica Elisabetta Belloni, attualmente alla guida dei servizi segreti. Quest'ultima non solo potrebbe essere la prima donna capo dello Stato e il primo Presidente della Repubblica a provenire dall'intelligence, ma secondo indiscrezioni potrebbe diventare la prima Premier donna italiana in caso in cui fosse i draghi a salire al Quirinale. Bollettino odierno delle Covid sono 1.568 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 955 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 3.109 e tamponi antigenici 10.391 e pari all'11,61%. Si registrano 10 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.758. Dei 10 decessi 7 riguardano persone di età compresa tra 70 e 92 anni, 4 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e una residente fuori regione. 3 risalgono i giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalla ASL. In aumento i ricoveri 419 quelli in area medica più 7 rispetto a ieri, 37 in terapia intensiva più 1 rispetto a ieri. Nel primo giorno di Arancione alla luce dell'aggiornamento odierno in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è al 20% per le terapie intensive e del 32% per l'area non critica a fronte di soglie limite rispettivamente del 20 e del 30%. Gli ultimi dati continuano a confermare la frenata della corsa del virus anche se i numeri sono stabili su valori altissimi. Il totale dei contagi accertati in una settimana è pari a 25.230. Il totale anche in termini percentuali è invariato rispetto ai 7 giorni precedenti, segno di come la crescita si sia arrestata. A livello territoriale i numeri più alti sono ancora quelli del Terramano, unico territorio che presenta ancora una incidenza settimanale dei contagi superiore a 2.000. Per la precisione 2.160 seguono il Pescarese con 1.956, il Chietino con 1.845 e infine la provincia dell'Aquila con una incidenza pari a 1.647. E si lavora per rendere operativo già a partire da mercoledì il secondo hub vaccinale della città di Pescara anche se non è escluso che si possa far slittare l'apertura al giorno successivo. Questo quanto annunciato dalla AS di Pescara che punta ad un'accelerazione per la vaccinazione della fascia 5-11 anni. Stefano Recanati. Proseguono i lavori per garantire l'apertura entro mercoledì o al massimo giovedì del nuovo centro vaccinale di Pescara. Quello all'interno del palazzo Fuxas in via Volta sarà il secondo della città e andrà in qualche modo a rimpiazzare quello del palafiere, chiuso ormai da qualche mese. Gli spazi acquisiti sono quelli al piano terra per un totale di circa 1.000 metri quadrati, 5 le linee vaccinali inizialmente aperte e per questo sono stati già reclutati una decina di medici, anche se all'appello ne mancherebbero ancora tra infermieri e amministrativi. L'obiettivo della ASL, che proprio questa mattina ha cominciato l'allestimento, è quello di somministrare durante una singola giornata circa 500 dosi di vaccino, che sommate alle 900 che già vengono effettuate nell'altro hub della città, quello di Porta Nuova, fanno 1.500 somministrazioni solo nella città adriatica, nella speranza di dare la spinta decisiva alla battaglia contro il Covid. L'altro obiettivo dell'azienda sanitaria locale è quello di riuscire a vaccinare quanti più bambini possibili. Dal 16 dicembre, data di avvio della campagna per la fascia 5-11 anni, le inoculazioni sono state più di 8.000 tra prime e seconde dosi. Ma si è visto che per effetto della variante Omicron il virus colpisce tanto anche quella fascia di età e così dalla prossima settimana, sempre nell'hub di Via Volta, tutti i pomeriggi saranno dedicati proprio ai più piccini, evitando così lunghi viaggi verso gli hub della provincia di Teramo e l'Aquila. In provincia di Pescara, ci aggiorna il dottor Di Luzio, referente della campagna vaccinale, l'87% della popolazione vaccinabili ha ricevuto la prima dose, l'80% la seconda e oltre il 65% ha ricevuto anche la dose booster. Quella di Pescara, con più di 4.000 dosi giornaliere somministrate tra lunedì e sabato, si conferma tra le province più attive nella campagna vaccinale. Dopo l'istituzione del tavolo per la sicurezza, l'associazione Il Popolo di Chieti, presieduta dall'avvocato Federico Gallucci, scende in campo di nuovo, questa volta per chiedere la chiusura delle scuole cittadine alla luce del picco dei contagi e dei dati diffusi oggi dalla SIP, Società Italiana di Pediatria, che parlano a livello nazionale di un aumento di ricoveri di bambini tra i 5 e gli 11 anni rispetto alla scorsa settimana. Vediamo il servizio. Scuole chiuse fine a fine gennaio e prezzi calmerati per i tamponi ai bambini. E' quanto chiede l'associazione Il Popolo di Chieti, che propone al sindaco di chiudere anche le scuole per altri 10 giorni, considerato il picco massimo del contagio. Noi con l'associazione La Gente d'Abruzzo, che io ho l'onore di presiedere, dai mesi ci stiamo occupando del problema della sicurezza sulle scuole. Prendiamo atto che finalmente, anche se per parlare di Covid, Sua Eccellenza il Prefetto ha dato vita a questo tavolo, che vede uniti come protagonisti il sindaco di Chieti, i presidi, la ASL e la Prefettura. E ovviamente la prima cosa che noi chiediamo è che questa iniziativa venga stabilizzata, cioè che questo tavolo non nasca e muoia per parlare di questi due giorni di stasi, ma che rimanga come tavolo tecnico permanente, perché dopo il Covid si dovranno necessariamente affrontare le altre problematiche che noi abbiamo sollevato, ahimè senza risposta, che sono quelle per esempio dei piani di sicurezza delle scuole a 360 gradi. Ancora, noi abbiamo preso atto di questa decisione da parte del sindaco di Chieti, che ringraziamo per la sua sensibilità caldeggiata dalla Sua Eccellenza il Prefetto, di chiudere le scuole per questo fine settimana. Però in realtà a noi appare una decisione un po' timida rispetto a quella che è l'emergenza pandemica in questo momento. In tutta Italia siamo al plateau, siamo al picco dei contagi. Le scuole, ahimè, sappiamo che sono un fortissimo veicolo di contagi. Sappiamo tutti, perché oramai è un dogma acclarato, che i tamponi antigenici, quindi lo screening rapido, è soltanto parzialmente attendibile, Crisanti lo ha definito una roulette russa, mentre invece quello molecolare sappiamo che è quello più sicuro. Però il molecolare è improponibile, soprattutto per i bimbi, per gli alti costi. Sappiamo che i laboratori di Chieti sono ingolfati e allora noi torniamo a chiedere un periodo maggiore di stasi e vorremmo che Sua Eccellenza il Prefetto, come rappresentante territoriale del Governo, dia questo input, cioè quello di mantenere le scuole chiuse almeno sino a fine gennaio, per consentire ai presidi di riorganizzarsi ancora meglio, ai due laboratori di decongestionarsi al meglio e soprattutto per consentire a molti bimbi, purtroppo positivi, di negativizzarsi e di tornare a scuola in sicurezza. Le associazioni ambientaliste tornano sulla questione della riserva d'Annunziana dopo il recente abbattimento di tre nuovi alberi nella zona del cantiere di Via Pantini, chiedendo l'istituzione immediata della direzione scientifica della riserva. Vediamo. La riserva d'Annunziana è un patrimonio della città che deve essere difeso con i criteri scientifici della difesa di una riserva. La riserva d'Annunziana di Pescara continua a essere danneggiata da chi deve gestirla. Così le associazioni del coordinamento salviamo gli alberi di Pescara dopo che il 20 gennaio scorso sono stati abbattuti alto i treppini nella zona del cantiere di Via Pantini. Nell'agosto scorso abbiamo tutti vissuto il dramma dell'incendio ma già precedentemente c'erano stati dei tagli di Pini secondo noi immotivati per la realizzazione di questa nuova strada. Ora dopo l'incendio vedere che ancora si tagliano alberi sani addirittura a fianco a quelli bruciati è paradossale. La regione Abruzzo nel novembre 2021 ha approvato un emendamento per cui è prevista una sanatoria relativa agli interventi di trasformazione del bosco eseguiti da parte di enti pubblici e che finora hanno impedito ulteriori tagli di alberi. Ora c'è una coincidenza francamente sospetta fra l'inizio di una nuova campagna di tagli e questa attività legislativa finalizzata a consentire quello che non era consentito. C'è fiducia per il futuro dicono dall'associazione ma tra le priorità ora ci deve essere l'istituzione di una direzione scientifica della riserva. E' chiaro che si tratta di un progetto che va rivisto anche alla luce della salvaguardia della PINETA che deve essere emessa tra le priorità di questa amministrazione. Esiste un comitato di esperti che loro hanno chiamato, che ha fatto un documento che noi in gran parte condividiamo. Bene, si proceda all'istituzione della direzione scientifica della riserva perché soltanto un organismo scientifico può decidere cosa fare e cosa non fare per la rinascita della nostra riserva. Vedere invece che sulla base del progetto di un geometra, di un ingegnere che sta facendo una strada, si decide se un albero deve star su o no, insomma ci sembra paradossale. Esattamente 5 anni fa moriva il giovane alpinista terramano Davide De Carolis durante una operazione di eri soccorso. Questa mattina nella precisa ora della sua morte, le 11.25, l'amministrazione comunale di Terramo su impulso del movimento Scout Abruzzo ha intitolato il parco fluviale del Vezola a questo ragazzo eroe. Tania Bonici Castelli. Erano le 11.25 del 24 gennaio 2017. Terremoto e straordinarie nevicate avevano fiaccato l'intera provincia di Terramo. Esattamente 5 anni fa un elicottero si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito. Tra i componenti dell'equipaggio di soccorso c'era Davide De Carolis, un giovane volontario terramano, attivissimo anche durante la tragedia di Rigopiano. L'elicottero non giunse mai all'ospedale dell'Aquila, dove era diretto perché si infranse contro una montagna a causa della visibilità estremamente scarsa. Oggi, nella stessa precisa ora della morte di questo ragazzo eroe, l'amministrazione comunale di Terramo su impulso del movimento Scout Abruzzo ha ufficialmente voluto inaugurare il parco fluviale della città a Davide. Una cerimonia toccante alla presenza di amici, genitori, istituzioni, studenti e colleghi del soccorso alpino. Chi era Davide? Lei che lo ha conosciuto bene? Prima di tutto un amico, un collega, una grandissima persona, una persona dall'animo buono, una persona che per quello che l'ho conosciuto io si è sempre speso per gli altri. L'ha fatto fino all'ultimo giorno, pochi giorni prima, come tutti sapete eravamo impegnati a Rigopiano e come tutti ha dato il suo contributo, quindi una persona che manca, una persona che se ce ne fossero tante come lui sarebbe un mondo migliore. Davide era una persona splendida, speciale, quando era ragazzo mise una cornacchia dall'ala ferita in accudimento perché potesse riprendere a volare, non aveva intenzione di tenerla nella gabbia perché per lui trattenere voleva dire chiudere le porte alla libertà e lui era sostanzialmente un uomo libero. Perché proprio il parco fluviale? Davide era l'emblema dell'amore per la natura, per la montagna, quindi una brutta storia che per oggi stiamo a raccontare una bella storia di una persona che sicuramente ha lasciato un messaggio bellissimo di amore per l'ambiente e di amore per gli altri e quindi veramente siamo felicissimi di poter, di aver attivato questa procedura in titolazione del parco perché Davide era tutto questo, meriterebbe tanto, ancora di più. Quindi non siamo felici di aver potuto regalare oggi un sorriso a Davide e alla sua famiglia. Ed ora la pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie C, 4 gol col Montevarchi e oltre alla doppietta del solito Ferrari il Pescara alla prima del 2022 trova anche quella di Nicola Rauti che sta scalando vertiginosamente le gerarchie del reparto avanzato di Gaetano Auteri. Ascoltiamolo. Volevo partire bene in questo 2022, ero fiducioso che poteva essere una giornata positiva, lo è stata, per la vittoria, per la prestazione, quindi giusto partire così sono contento. Mi aspettavo appunto che il loco riuscisse a scaricare ma alla fine ce l'ha fatta e ho visto lo spazio lì, ho provato a tirare in questo modo, mi è andata bene. No, sicuramente sono stati giorni che ci sono serviti tanto perché abbiamo lavorato tantissimo, a testa bassa, abbiamo pedalato, ci siamo ritrovati e era di primaria importanza farci trovare pronti per questo primo impegno perché sappiamo che questo può dare nuova linfa per i prossimi impegni e quindi continuare su questa strada. Lo so che devo continuare a lavorare perché l'inizio, come ho sempre detto, mio personale non mi è piaciuto e quindi sto lavorando tanto per farmi trovare pronto qualsiasi sia la situazione e questo è quello che posso promettere. Sicuramente mi sono fatto un esame di coscienza, ho capito su cosa c'era da lavorare, su cosa c'era da migliorare ed è tutto sempre un discorso mentale quando magari le partite non vengono e quando invece le partite vengono. C'è quello che ho capito che devo lavorare sulla mia testa e così sto facendo e così devo continuare. La dedica è sicuramente per la mia famiglia, per la mia ragazza che mi seguono sempre, quello è innegabile. Poi dopo sì, diciamo che io cerco veramente, devo migliorare tanto anche in questa posizione perché anche oggi ho fatto degli errori proprio tipici che secondo me sono degli automatismi che si creano quando sai fare un ruolo e lo fai da tempo. Io sto cercando di migliorare grazie anche al mister che mi sta facendo lavorare e quindi devo continuare così. Noi appunto giocheremo partita in partita anche perché penso che quando ci saranno poi dopo dei filotti di partite vinte e così poi dopo magari la classifica varia e quello che si dice oggi magari un indomani è totalmente diverso. Quindi vediamo, dobbiamo continuare così senza crearci troppe pressioni e dobbiamo appunto portare a casa più partite possibili da qui alla fine. E la Lega Pro ha reso noto che la partita di campionato Siena-Teramo, valevole quale recupero della seconda giornata di ritorno e originariamente programmata per le ore 21 di mercoledì 2 febbraio, è stata anticipata alle ore 18 dello stesso giorno. Intanto sabato scorso terzo gol stagionale per Bernardotto che a Pesaro ha realizzato la marcatura della sicurezza. Per l'attaccante il modo migliore per mettersi alle spalle, critiche e un finale di 2021 da dimenticare per tutto il diavolo. Vediamo il servizio. Gabriele, un gol, il terzo in tua stagione, anche se prima c'era un dibattito, sono 3-3,5 in mossa da Karateka. Sì, è stato un bellissimo gol. Appena ho visto la palla lì ho provato questa giocata e per fortuna mi è riuscita e sono molto contento perché abbiamo iniziato il 2022 nei migliori dei modi e adesso con equilibrio dobbiamo continuare così su questa strada. I nuovi si sono calati nella realtà Teramo e quindi questo ci fa molto piacere. Sicuramente hanno portato più esperienza, hanno portato più agonismo in questa squadra che un po' peccava e adesso tutti insieme dobbiamo continuare ancora a crescere e a toglierci le soddisfazioni che nel giro di andata non abbiamo sfruttato. Attenti Gabriele, una corsa verso la panchina, l'abbraccio, che cosa voleva dire quella corsa? Il gol per me vale sempre tanto perché comunque dopo quello che ho passato soprattutto quest'anno quando vado in rete sono molto contento perché mi vengono in mente tantissime cose, tantissime come posso dire critiche che ci sono e fanno parte di questo sport. Quindi è stata una gioia immensa, la volevo condividere con tutta la squadra perché sappiamo solo noi quello che abbiamo passato. È una situazione molto più tranquilla perché i presidenti ci hanno garantito tante cose e questo sicuramente quando scendiamo in campo fa molta differenza. e oggi si è visto che comunque questa pausa che c'è stata ci ha fatto del bene e dobbiamo come ho detto prima continuare così e dare continuità a questo risultato di oggi. Il Terram può giocare anche con due punte e Bernardotto c'è nel tridente, Bernardotto c'è con un tridente un po' strano, con Mungo e Malotti. Bernardotto c'è alla fine, Bernardotto c'è sempre. Sì, io cerco di esserci sempre perché sono così come ragazzo, nel senso anche quando sono un po' ciaccato, non so al 100%, cerco di esserci sempre perché mi metto sempre a disposizione. Mi fa piacere e spero di dare continuità a quello che è stato oggi. E in Serie D il colpo lo ha firmato il Chieti che ha centrato la prima vittoria interna stagionale battendo la capolista recanatese. Vediamo. Prima del fischio d'inizio, in occasione delle manifestazioni per il centenario della società teatina, premiati il tecnico della recanatese Giovanni Pagliari, ex attaccante neroverde per 5 stagioni, dall'89 al 94, per lui 130 presenze, 17 reti, una promozione in C1 ed il compianto Giuseppe Farina che ha vestito la casacca dei teatini negli anni 40. Ancora assente Aquilanti, Lucarelli ritrova però Bassini che va subito ad occupare il centro della difesa. Per il resto 3-5-2 confermato con la coppia offensiva formata da Orlando e Fabrizzi. La capolista recanatese vuole riprendere il nuovo anno così come va lasciato il 2021, allora Pagliari si affida al 4-2-3-1 con l'ultimo arrivato Meloni già in campo. Il luogo di somma in avanti l'unico riferimento offensivo è Defendi. Ritmi blandi tra le due squadre nei primi minuti ma è la formazione di casa a provarci al sesto. Calcio di punizione interessante di Mele che calcia sulla barriera, poi il pallone acquista una triettoria beffarda che per poco non beffa Robietis. La pausa di un mese si fa sentire ma con il passare dei minuti i leopardiani crescono trascinati dal solito sbaffo. Il numero 10 conquista la sfera a centrocampo e dopo aver vinto un paio di rimpali prova la conclusione dei 30 metri con la sfera che sbatte sull'incrocio dei pali con forti immobile. Si dispera a baffo a due passi dall'Eurogoal. Il Chieti prova a sorprendere la cabolista con le ripartenze così come avviene al 27esimo quando Pietro Antonio sfugge a Meloni e va giù in aria di rigore ma è giusta la decisione di Fantozzi di non concedere il penalty. Gli ospiti provano a scardinare la difesa con delle sventagliate da lontano a liberare gli esterni come avviene al 40esimo con Quacquarelli che lascia sul posto chiacchia attenti però i suoi compagni in aria a liberare la sfera. Alla fine dei primi 45 minuti è 0-0. Chieti molto intraprendente all'inizio ripresa che passa un po' a sorpresa anche a condurre la contesa. Calcio di punizione perfetto anche troppo di Pietro Antonio che incoccia il palo sulla sfera si avventa Luca Fabrizi che di piatto deposita in fondo al sacco. Poi la corsa sotto la curva Volpi per festeggiare l'ottavo centro in stagione. Il gol dello svantaggio risuona come una sveglia per la Recanatese che si getta capofitto alla ricerca del gol. L'occasione capita al ventesimo sui piedi del solito sbaffo che aggancia bene in aria ma da due passi incredibilmente. Cestina sull'esterno della rete. Recanatese a trazione offensiva quando mister Pagliari manda in campo anche Ferretti passando al 4-2-4. Nel Chieti invece c'è l'esordio di Eluasni a fargli spazio tra gli applausi l'autore del gol Fabrizi. La Recanatese spinge ma non riesce a pungere con il Chieti sempre ordinato in fase difensiva che dopo aver sofferto poco nulla nei minuti di recupero può festeggiare la prima vittoria stagionale tra le Muramiche che stava diventando sempre di più tabù della squadra di Lucarelli. Con questa vittoria il Chieti esce dalla zona play-out e domenica prossima contro il Nereto. Occasione d'oro per cambiare il volto della stagione. La Recanatese incappa invece nella seconda sconfitta stagionale che però non scalfisce l'ottimo cammino fin qui ha avuto. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi e vi ricordo anche il prossimo appuntamento con la nostra informazione la terza edizione del TG6 alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.